A scuola di Alpini, dagli Alpini. Arriva l'estate e tornano di attualità i campi estivi per i ragazzi. Quest'anno il Cadore, con la locale sezione ANA, sarà protagonista delle iniziative realizzate per avvicinare i giovani ai valori delle camicie grisoverdi. I campi scuola nascono da un'iniziativa della ANA nazionale. Quest'anno hanno ideato questo campo scuola avanzato, che si terrà tra i di Cadore, dal 17 al 31 di agosto prossimi. Vedrà coinvolti un'ottantina di ragazzi. È un campo scuola avanzato perché parteciperanno dei ragazzi e ragazze che hanno già fatto dei campi scuola negli anni precedenti, ma che hanno manifestato la volontà di entrare nelle truppe alpine. Svolgeranno la loro attività nella caserma, affiancati anche dagli alpini in armi del 7 e dell'8 reggimento alpini. E quindi potranno vivere sul campo quello che gli aspetteranno nei casi di un loro arruolamento. Non solo divertimento quindi, ma un modo per prendere coscienza del valore della comunità. Insieme all'attività che dovranno fare, insieme all'esercito, insieme ai formatori, sono previsti anche delle attività di supporto e di momenti meno impegnativi, più ludici, con l'incontro con le associazioni di territorio, con le personalità del territorio. Quindi potranno testare anche le attività di volontariato che seguono le nostre sezioni. e quindi potranno testare anche le nostre sezioni.